ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video io sono Marta la guardiana slash tecnica notturna di urda mattutina e poverdiana io sono Cosimila Mascotte ciao ragazzi e ragazze e un po ciao connessione errori siamo delle teorie di finalized freddys ah ah connessione non riuscita firefox non può stabilire una condizione con i service scottgames.com è impazzito ah oh il sito potrebbe non essere disponibile o sopra carico riprovare fa qualche momento se non è possibile caricare alcuna pagina controllare la condizione di rete del computer se il computer o la rete sono protetti da un firewall o proxy assicurarsi che firefox abbia i permessi per accedere al web anche su fnaf word già pure su fnaf word che non funziona è proprio il problema della collezione scopriamo nei commenti sotto la descrizione ora faremo uno dei contest su quale è mio disegno tra io e casimira certo mi raccomando disegnate io e casimira mi raccomando se vinciamo fammelo sapere nei commenti sotto la descrizione allora se il video mi sono piaciuto come sotto mi piace o mi piace per problemi della connessione che non è riuscita o vabbè non ti preoccupare iscrivete sul canale visitiamo la posta nostra pagina vuol dire nostra pagina e scrivi commento sotto la descrizione cliccate campanellino dopo l'evo scritto e noi ci vediamo al prossimo video in guardia ciao ragazzi e ragazze ci vediamo un altro episodio e ti amo